Da tutta una strumentazione dal vivo, vi chiedo un applauso anche ai nostri tecnici perché veramente c'è tutto un lavoro di preparazione non indifferente, quindi grazie a Fausto, grazie a Michele, grazie a Francesco, grazie a Edoardo che sono i miei angeli custodi, quindi grazie, io da sola non potrei sicuramente fare nulla di tutto questo, quindi facciamo un applauso anche a loro. Bene, basta così e iniziamo lo suo, grazie a tutti e buon divertimento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!